10 regioni del Kazakistan hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo le fortissime inondazioni che hanno colpito tutto il nord ovest del paese. Le inondazioni sono state causate da un clima troppo caldo che ha provocato un massiccio scioglimento delle nevi in alcune zone del Kazakistan e della Russia. Gli allagamenti sono stati definiti i peggiori degli ultimi 80 anni. Più di 72.000 persone sono state evacuate. L'esercito kazako sta dispiegando le squadre di soccorso in tutta la regione. Nella città russa di Orsk, al confine con il Kazakistan, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nella tarda serata di venerdì si è verificata la rottura di una diga e la maggior parte della città è stata inondata. Domenica il Ministero delle Emergenze ha riferito che l'acqua stava ancora salendo. Sono in corso le operazioni di evacuazione nella regione di Orenburg, dove diverse migliaia di edifici risultano allagati. Più di 4.000 persone si sono già spostate.